Siamo arrivati quasi alla conclusione, quindi credo che entro la fine di ottobre si possa fare l'inaugurazione con il ritorno anche dell'acqua nella fonte di Piazza Grande, con gioia di tutti noi, ma anche degli aretini che recuperiamo un'opera storica. Si concluderanno dunque brevi lavori di restauro degli archi dell'Acquedotto Vasariano, l'opera idraulica del 1600 e già si pensa all'attivazione di un progetto per costituire un parco vasariano in grado di accogliere in un percorso storico, culturale e paesaggistico le varie opere idrauliche correlate con l'Acquedotto. Abbiamo condotto in accordo con la sovrintendenza archeologica un'indagine geodiagnostica vicino alle mura dove l'Acquedotto Vasariano entra dentro la città un pochino a latera, c'è una grande cisterna. La datazione di questa cisterna va eseguita, per cui noi abbiamo fatto un'indagine geodiagnostica, abbiamo trovato questa grande cisterna la cui datazione va definita, però questa cisterna entrerebbe nel percorso culturale e paesaggistico idraulico del parco vasariano. C'è una galleria che è stata esplorata e io ringrazio anche non solo la sovrintendenza e il comune, ma ringrazio anche i giovani del collegio dei geometri che hanno collaborato in questo progetto. È un progetto culturale e la fraternità si distingue perché nel suo fondamento c'è proprio la tutela culturale della città di Arezzo. Hanno sicuramente riscosso un gran successo, delle visite guidate all'interno dell'Acquedotto in futuro, sono previste altre visite? Sì, questa è una domanda costante che ricevo di andare a esplorare l'Acquedotto vasariano dall'interno. Noi faremo un percorso che partirà dalla Piazza Grande, salirà al Prato, chiederemo l'autorizzazione ovviamente del nostro sindaco che ci segue costantemente e che costantemente informiamo, poi scenderemo giù per questa strada fino ad arrivare agli archi e poi ai lati degli archi faremo un percorso pedonale per arrivare su a Torre di Gnicche. Insomma, un percorso culturale che non c'è mai stato e che noi della Fraternità vogliamo creare. Grazie. 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 Grazie.